Ciao a tutti i ragnetti, lo so ho pubblicato un post in cui ho detto che sarebbe uscita una nuova serie moddata, l'Alphacraft. Però sono stato invitato ad un progetto molto più importante, una vanilla con ben 30 persone. E non sarà una vanilla normale, è una vanilla con obiettivi e sfide da completare a settimana. Non è una copia spudolata della B-Vanilla 2, giuro. Le sfide di questa settimana sono ottenere uno stack di tronchi, molto semplice, ottenere uno stack di cobblestone, anche questo molto semplice, trovare un lingotto di ferro, anche questo molto semplice, e trovare un villaggio, probabilmente quello che causerà più problemi, ed è stato peggio di quello che pensavo. Inoltre ci sono anche degli obiettivi bonus, trovare un portale distrutto, è abbastanza comune, non dovrebbe causarci alcun problema. Trovare una pozza di lava, anche questo è abbastanza comune, non dovrebbe causarci nessun problema, se viaggiamo un po' la troviamo. Trovare un diamante, penso che tutti lo faranno nella prima settimana, quindi è abbastanza semplice. E poi, farsi full ferro, questo qua pure, molto semplice, anche perché io mi faccio full ferro tipo all'inizio di tutte le mie Vanille. Questo qui che segue, è tutta la prima settimana. Partiamo dal primo giorno. Ok, ciao a tutti ragazzi. Ecco qua, allora, le due uniche persone che conosco sono Carol e il capo, su Rex, che pare abbiano fatto un'alleanza. Allora, io direi di partire immediatamente, pare sia pacifica per l'inizio, ma penso che sia soltanto per il primo giorno. Magari perché sono scarsi, non so che io sono il dio di Minecraft. Ovviamente sto scresando, c'è sicuramente qualcuno molto più forte di me, per esempio, ci sono il capo, knockback, tantissima gente molto più forte di me su Minecraft. Ma comunque diciamo che me la cavo, non sono scarso. Partiamo facendoci già le prime cose, il banco da lavoro, poi il piccone, già quello in pietra, quindi non è un problema. E devo prendere la cobblestone, anche perché devo fare l'obiettivo dello stack di cobblestone. Direi di farlo anche immediatamente. Oggi abbiamo già il carbone. Ok, perfetto il giorno. Abbiamo già fatto il primo obiettivo, ovvero quello dello stack di cobblestone. Facciamo lo stesso per la legna. E l'ultimo obiettivo. Ok, abbiamo uno stack di tronchi. Prendiamo questo giusto per togliere tutto l'albero. E shazam. Oh, ma quella è una pozza di lava. Abbiamo già completato un obiettivo bonus, perfetto. Ma che pro che siamo. Ferro. Già vedo che tutti stanno facendo l'acceleramento del ferro. Noi non saremo da meno, perché noi siamo fortissimi su Minecraft. Non possiamo non prendere il ferro. Sennò non saremo... Sennò non siamo degni del nome di fiamma. Ok, et voilà. Abbiamo già nove lingotte di ferro. Molto buono. Possiamo fare un piccone, un secchio. Non lo so. Fuori una corazza e una pala. Però non penso di fare una pala. Oppure corazza e scudo. Ci può stare corazza e scudo. Cuociamo. Ovviamente con il carbone. E cos'è? Copritemi di diamanti. Ma che... Io voglio la fornace per non guardare gli obiettivi. Cioè, rendete conto la keyfire è già... Ai diamanti. Madonna. Copritemi di diamanti. Ma questo è pazzo. Questo è pazzo. Ma mi sa che questo qua ha iniziato 20 giorni fa. Cioè, ha già fatto l'armatura in ferro. Cioè, il diamante, scusate. Io manco quello in ferro. Oh, un lingone. Facciamo assolutamente il piccone. E facciamoci dei bei gambali. Perfetto. Abbiamo già il primo pezzo dell'armatura. Tra poco ci faremo full ferro, eh. Dovevo soltanto aspettare un attimo. Un portale distrutto? Ok, abbiamo già fatto anche un altro obiettivo bonus. Ora finisce che facciamo tutti gli obiettivi bonus il primo giorno. Ah, comunque questo qua è un server Java. Quindi, se vedete dei pallini, è un po' come la spadina di quando attacchi che c'è il tempo. Oh, c'è un knockback. No. Sono... Mi hai fatto esplodere un knockback. Io ti odio. Mi hai fatto esplodere, sì. Mi hai fatto bruciare. Comunque, questo qua non serve per Java. Quindi, le meccaniche saranno quelle di Java. Ok, ragazzi. Mi sono fatto full ferro. Abbiamo trovato una bellissima caverna. Però pare che l'abbiamo già esplorata tutta. Hanno messo adesso difficoltà easy. Maledetto creeper. Magno. Ah già, ci sono anche gli shop che non ho visto come sono. Poi li vedremo, ve li farò vedere. Allora, questo lucky fire è già full diamante. Questa cosa mi fa paura. Comunque, andiamo. Mi sta portando in esplorazione. Non so dove, però mi sta portando in esplorazione. Oh, una giungla. Fa proprio una giungla. Ok, non so cosa fare di una giungla. Però dai, è una giungla. Perfetto. Abbiamo trovato la giungla. Stavo procedendo tutto per il meglio. Avevamo pure trovato una dark forest. Peccato che a un certo punto sono morto. No, 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 raga. Questo è quello in cui sono morto. Non fate caso alla skin comunque. No, no, no. No, mi sa che la roba è già spawnata. L'armor in ferro, maledizione. L'armor in ferro. Eh, niente. Mi sa che la via è persa. Addio. Però ho notato una cosa bella. Ovvero che in questo shop, in cambio di monete, possiamo riprendere le nostre cose in ferro. Bene. E comunque, con i top dei mob, tipo la carne marcia, possiamo prendere queste monete. Ce ne daranno direttamente sei. Non so per quanti drop dei mob. Comunque, questo qua non lo so bene cosa sia per i punti. Vabbè. Comunque, potrebbe essere la nostra occasione per ottenere le nostre cose che abbiamo perso. Questi sono occhi di Ender. Cioè, gli Ender Eye. No, no. È una cosa troppo sbroccata questa. Ok, questa pare essere la loro casa. Io in teoria sarei il loro alleato. Perfetto. Ah, no, le Ender Pearl, già. Va bene. Va bene. Qua in teoria, c'è un segreto. No, scherzo, dai. Il primo giorno si conclude così. Purtroppo sono morto. Ma passiamo al secondo giorno. Speriamo di recuperare le nostre cose. Allora, ragazzi. Con la mia alleanta abbiamo diversi diamanti. Poi lui si è pure inchantato, anche perché abbiamo l'inchant in table però non abbiamo le librerie quindi sono incantesimi molto reboli. Mi sono fatto abbastanza di armatori inferno. Mi hanno calzato tanti gambari. Pare si sia incertato il piccone con efficienza 1. Perfetto. Ovviamente con le librerie sarebbe venuto un incantesimo migliore o magari tipo fortuna. Mi ha chiesto di parlare su Discord perché mi deve dire una cosa. Va bene. Allora arrivo. Io non mi sarei mai aspettato quello che mi doveva dire. Hai presente il piccadero della rabbi di vanilla? Bene. Io in questa vanilla io sono il killo. No. E io, essendo suo alleato, mi sono fatto killare. Però sapete chi non l'ha presa molto bene? Carol. Lasciando l'alleanza. E cacciandoci di casa. In questo momento sto nell'esplorazione e per non evitare l'errore della scorsa volta e non perdere la mia armatura in ferro andrò solo con gli gelati in pietra e l'armatura in pelle. Oh, è il ferro. Direi di fare lo scudo. Uh, un bioma del cherry. Molto, molto buono. Mi è stato chiesto da Christian se gli porto un alberello di cherry e lo porto assolutamente. Comunque mi manca soltanto un achievement ovvero quello del villaggio. Ricordate quando vi ho detto che Carol dopo essere uscito dall'alleanza ci ha cacciato di casa? Beh, non proprio. In realtà ha cacciato Rex di casa perché tra di noi comunque siamo rimasti degli alleati e non proprio degli alleati però ci siamo comunque aiutati. Infatti insieme abbiamo trovato un avamposto dei pillager in cui lui ha ottenuto l'effetto Bad Omen e abbiamo anche trovato un villaggio completando tutti gli obiettivi. Però lui, maledetto, ha iniziato un raid. Ma, oltre a ciò un'altra cosa è successa mentre io e Carol eravamo online. Ok. Sei stato rapinato firmato Aaron. No. No, no, no. Qualcuno vuole incastrare Aaron palesemente. Non penso che lui sia così stupido da scrivere che è stato lui. Lo vogliono incastrare palesemente. Questo voleva dire che c'era un ladro. tra di noi. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Iscrivetevi al canale e lasciate like perché mi sarà sempre piacere se voi interagite nei miei video. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao. Grazie a tutti